E poi la mia rabbia esplose particolarmente nel 1938, quando fu arrestato mio fratello. Venne arrestato perché era sovversivo. Venivano chiamati i sovversivi, cioè quelli che non la pensavano come la pensava il Duce. Questi sovversivi avevano fatto casa per casa tra loro giovani, quindi la rete del partito comunista di allora si diffondeva sempre di più. I capi erano stati già arrestati molto prima, mandati al confine, sembrava che non ci fosse più la testa che dirigesse. Invece c'era una rete, se volete, molto labile, molto sottile, però che si spandeva pian piano sotto sotto e che veniva alimentata dai discorsi di questi giovani che tra di loro si facevano, quindi oggi erano due, domani erano tre, perché trovavano veramente molta gente che oramai cominciava a essere stanca del fascismo. Nel 1939 mia mamma non ha retto a questa situazione perché il padrone, la famosa contessa, ci mandò una lettera dicendo che lei non poteva tenere una famiglia antifascista nel suo fondo. Mia madre morì nel 1939, quindi io rimasi, avevo 14 anni e ero senza papà e senza mamma. E poi dover abbandonare tutto, gli amici, tutto quello che c'era, e ci siamo spostati, siamo andati a Gazzata di San Martino in Rio. E grazie che abbiamo trovato un padrone che ci ha dato un fondo da lavorare. Forse sapevano già che la nostra era una famiglia antifascista, proprio in virtù di quella rete che parlavo prima, e mi chiesero se gli davo una mano in alcuni lavori in appoggio al Partito Comunista che fosse una persona che non dasse nell'occhio. E' così. Io che mi ero, che con tutto quello che era successo, veramente non aspettavo altro. Cioè volevo fare qualcosa, volevo aiutare, però non sapevo come. Quindi questi giovani mi hanno presentato proprio l'idea e la possibilità di fare qualcosa sempre in aiuto alla mia famiglia, in aiuto a queste idee di antifascismo che cominciavano poi a radicarsi anche nel mio cervello. Cioè proprio... E così cominciai ad andare a raccogliere il soccorso rosso che erano dei pochi soldi che gli antifascisti potevano disporre che servivano per aiutare le famiglie che avevano i genitori, che avevano i genitori o i fratelli o i papà che erano stati costretti a scappare dall'Italia perché perseguitati dal regime fascista. Per me era la cosa più normale di questo mondo. Cioè io sono entrata dentro con tutto quello che ho raccontato prima che per me aderire al Partito Comunista voleva dire proprio fare qualcosa per le mie idee che oramai erano maturate, cioè per fare qualcosa perché la gente stasse meglio, per mio fratello, per... Non so, io ero già convinta. Io sono diventata comunista così, pian piano, giorno per giorno, vivendo in quell'atmosfera e cercando di... Perché a 15 anni non voglio dire che ero cosciente di quel che facevo. Magari non lo sapevo neanche fino in fondo cosa volevo dire, però per me era da quel che avevo vissuto era lo sbocco naturale aderire al Partito Comunista. Non poteva esserci un'altra via, non poteva esserci dei dubbi, non c'era né mie né molte e era così.